Benvenuti al nostro Talk Show, siamo qui come sempre in collegamento con l'illustrissimo politologo, il professor Uniuro in diretta da Londra. Buongiorno professore. Buongiorno a tutti. Da Milano invece, come sempre, il giornalista Libero Calabraghe. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Dunque, allora, nuovo governo Renzi, nuovo, insomma, si fa per modo di dire, da Rottamatore è passato a Riesumatore in poco tempo, abbiamo Franceschini alla cultura, Orlando dall'ambiente alla giustizia, come se fosse un scambio di figurine, Poletti, Galletti, Padona all'economia, quello che come rappresentante del Fondo Monetario Nazionale ha portato allo sfascio l'Argentina e anche la Grecia. Ne parliamo appunto con il professor Uniuro e il dottor Calabraghe. A voi la parola. Parla prima lei, giornalista, che io sto guardando la lista qua, che mi stanno venendo la pelle d'oca, cioè. A me mi sembra un pochino quello di Letta, devo essere sincero. Dite sempre così voi, è un governo nuovo, un governo giovane, come aveva promesso Matteo Renzi, è il governo del fare. Del fare? Del fare, del fare e del cambiare, bisogna cambiare l'Italia. Cambiare l'Italia? Sì, 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 un euro. E poi è da lodare l'iniziativa di Renzi di mettere il 50% di donne all'interno dell'esecutivo. Amici, amiche e fratelli, sorelle. Sì, sì, il governo è più o meno lo stesso. Sì, a me sembra che me è bugano, io devo essere sincero, io guardati, grazie, professore, perché se lo dico io, sembro di parte, no, le tue ragione, no, le tue ragione stavolta, ecco. Ma non è vero. Ma che alla braga, lei non è braga, lei non capisce un capo, non si può dire queste parole, però lei veramente non ha l'idea, i ruoli chiavi sono stati cambiati. Voi distorgete sempre la verità, voi giornalisti, ve lo dico la verità. Ma non è vero, ma cosa dice, professore? È vero? Sono tanti nomi nuovi. Ma quali? Padua, ad esempio, Padua, è nuovissimo. Ma cosa, Padua, è responsabile dell'Argentina per conto del Fondo Monetario Internazionale nell'anno in cui il paese andò in default, non scherziamo, Calabraghe, è qui. Sì, Bugani, ma per una questione statistica, no, dico io, ha già sbagliato due volte, sbaglierà pure la terza. Ecco, ecco, questo grande... Quindi ha fatto bene a prendere una persona di così grande... Vabbè, altro tema, altro tema, altro tema... Vabbè, Galletti, per dire un esempio, ma Galletti, ma Galletti, Galletti, ma cosa c'è sta a fare Galletti per dire? Galletti all'ambiente, professore, l'ambiente, Galletti all'ambiente, Galletti all'ambiente, Polletti, Galletti, che è un pollaio, eh? Quale pollaio? Professore, la verità è che al Movimento 5 Stelle non va bene mai niente. Dunque, comunque... Non va bene mai niente, state lì solamente a criticare, mi piace criticare. Guardi, Calabragata, guardi che io non sono il Movimento 5 Stelle, guardi che io sono al di fuori di tutte queste dinamiche... Sì, professore, però ho capito che le sue idee, da come parla, capisco che anche lei è quantomeno simpatizzata. No, 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 assolutamente. Sì, ecco, eccoci, ci mancava questo, io so già dove lei voleva arrivare, Calabragata, lei voleva parlare dei dissidenti, dei dissidenti, mi immagino. Perché ci sono quattro persone, quattro, e dico quattro, che pensano con la propria testa all'interno del Movimento 5 Stelle, unici, unici, unici che non si piegano ai di stati di due e uno. Ma per me è... E voi li mettete all'angolio, a bugani, all'angolio... Scusi, posso... Si è rotto il disco, si è rotto il disco... Posso interferire, posso interferire, guardi, io le dico una cosa, uno va bene se dissente una volta, se dissente due volte, ma la terza volta non capisco il motivo per il quale... Poi rimanga ancora lì, perché per quale motivo rimane lì? Se dissenti tutto, su tutto, eh, non su una cosa, su tutto. Professore, non è così, non è così e glielo spiego subito. In questa settimana i dissidenti, sono stati dissidenti a chiedere che venisse messo al voto sul blog di Grillo, se andare o meno alle consultazioni, perché secondo loro non era giusto andarci. Poi dopo, dopo, hanno... si sono lamentati, perché Beppe Grillo ha detto, votate, però io voto no. Io e Gianroberto Casolino... Vede che si lamentano di tutto. No, però... Mi sembra che Beppe Grillo ci sia andato, eh. E' un gioco, è un gioco... Bugani avevano ragione. Lo fanno apposta, lo fanno apposta, Calabria, è un gioco. E che avevano ragione, che senso? Si sono lamentati, no, si sono lamentati, giustamente, Bugani, giustamente, si sono lamentati anche dell'orario in cui è stata fatta la votazione e dopo, ancora più giustamente, si sono lamentati che pioveva a Roma, so, più vedi, in quel momento che dicevano lamentate, che piove... No, professore, si sono lamentati di una cosa più seria, che Grillo non ha ascoltato Renzi ed avevano ragione, perché lei lo sa, lei lo sa, Bugani, cosa significa questo. Si, fortuna che ci sono loro, eh, Calabria, che per voi, eh, fortuna che ci sono loro, eh. Bugani, 60 euro, li ho scritti su 5 giornali. E cambiava la giornata, eh, con 60 euro, eh. No, sono 60 euro, però, per 5 giornali, caro, un euro, 5 giornali diversi, quindi 300 euro. Pagano un euro, i dissidenti pagano, pagano, tengono viva la stampa, pagano. Loro, loro, loro Bugani non pagano, mi paga il mio editore, mi paga il mio editore, ma quest'anno forse riesco a portare mia moglie in vacanza per farlo. Ho capito, ho capito, un euro, guardi, chiudiamola qui. Ecco, eh, ecco a cosa servono, ecco, servono non solo a questo, ma anche a questo, eh. Un euro, se vuole chiudere lei, se ci vuole lasciare, oggi chiudiamo qui la trasmissione, ci vuole lasciare con una delle sue celeberrime frasi, a lei la parola, professore. Sì, come diceva il mio professore di Armaico Antico, sopra la panca la capra campa, sotto la panca la capra soffre. Ecco, bene, con questo noi abbiamo concluso anche questa puntata. Forza, mi auguro a tutti. L'ho vista lei, braga e calate, stava iniziando a ridere, eh. Lei, il mio professore, non l'hai capito? No, mi chiedo sempre chi è il suo professore, perché il mio me l'ha sempre insegnata in maniera diversa. Ci vediamo la prossima settimana. Sì, ci vediamo la prossima settimana. Capite quanto è difficile per me. Ciao a tutti.